Bandiere, striscioni e piatti di plastica vuoti appesi al collo sono scesi in piazza i lavoratori dipendenti delle aziende della ristorazione collettiva aderenti ad Anir, Confindustria e Angem per chiedere il rinnovo del contratto, fermo al palo da tre anni. All'origine della protesta indetta a livello nazionale dai sindacati di categoria, la comunicazione è arrivata dalle due associazioni imprenditoriali, le quali, ad un anno di distanza dalla ripresa del negoziato per il rinnovo del contratto nazionale, hanno abbandonato il tavolo delle trattative. Le aziende inoltre hanno avanzato la richiesta di costituire un tavolo negoziale specifico, peccato che, lamentano dal presidio davanti alla prefettura di Napoli, il precedente accordo risalga solo al 2018. Ulteriori dettagli le hanno forniti Ugo Buonanno, segretario regionale Filcam CGL e Adriano Esposito della Fisa Scat Cisla. Le stesse aziende che anni fa avevano chiesto un contratto proprio, un contratto peculiario che in qualche modo ragionasse sulle loro criticità, sulle loro peculiarità, oggi ci chiedono, oggi scindono, fanno una sorta di scissione dalle altre associazioni di settore perché chiedono un altro contratto da solo. Ma non c'è la necessità perché noi parliamo di un contratto giovane nato nel 2018 e che è scatuto tre anni fa. E al di là di questo, poi all'improvviso e alle aziende gli è tornata in mente questa storia di avere un contratto tutto loro dopo un anno di negoziato. Le menze e la ristorazione negli anni purtroppo tra buoni pasti, diciamo che danno i buoni pasti, i cestini, diciamo le menze con il tempo diciamo che si è ridimensionato e quindi sperando che in seguito si dà una svolta a questo settore che al posto di crescere va in diminuzione. Presente in piazza anche il segretario regionale della UIL, Giovanni Sgambati. Dopo tre anni anche queste lavoratrici e questi lavoratori hanno bisogno di un contratto. Stiamo parlando di lavoratori che durante il Covid hanno già sofferto molto e questo rinnovo per noi è fondamentale. Vi è una grande solidarietà verso questo mondo ed è giusto rinnovare il contratto adesso.